8.000 donne da luglio 2009 a luglio 2013 in Toscana si sono rivolte ai centri antiviolenza. In 6.000 casi si trattava anche di violenza assistita dai figli e in 4.500 casi a essere testimoni sono stati minorenni. Da questi dati è partita la riflessione a Siena della tavola rotonda dedicata ai bambini contesi e alla violenza di genere, promossa dall'Associazione Donna Chiamadonna e CESVOT. Stiamo arrivando a capire che la violenza che riguarda le donne riguarda anche i loro figli, perché ogni volta che una madre subisce violenza la violenza viene percepita direttamente o indirettamente anche dai suoi figli e che quindi tutti gli interventi volti a contrastare la violenza sulle donne devono proteggere e aiutare a uscire dalla violenza anche i bambini. Incontri come quello di oggi servono anche per far capire che i protagonisti devono essere loro? Esatto, servono per questo, per focalizzare l'attenzione su questo problema che non è ancora sufficientemente studiato e per aiutare tutti i soggetti che operano in questo settore a coordinarsi e a lavorare insieme, perché possiamo fare qualche cosa soltanto con la collaborazione. Nella sua lunga esperienza lavorativa c'è un caso di un bambino conteso che le è rimasto particolarmente ancora? Di bambini che rimangono nel cuore e che poi fanno venire brividi quando se ne parla. Ricordo un bambino piccolissimo il cui babbo picchiava la mamma e questo bambino al nido si mordeva a sangue. Ricordo degli adolescenti che hanno perso completamente la gioia di vivere, che probabilmente in seguito a queste violenze hanno iniziato a drogarsi, si hanno iniziato, giovanissimi, a spacciare dei bambini che sono stati allontanati fisicamente dalle loro mamme e un bambino in particolare che non ha potuto vedere la sua mamma per quattro mesi e mezzo e che era stato anche allontanato non soltanto fisicamente ma anche affettivamente e psicologicamente dalla sua mamma, tanto che pur essendo sempre stato legatissimo a lei arrivava a dire che era cattiva, che non la voleva vedere e che non la voleva sentire. Per fortuna è un caso che si è risolto bene. Un incontro tra esperti del settore regionali durante il quale è stato sottolineato con forza che tutti gli interventi in caso di violenza familiare devono essere finalizzati al benessere psicologico dei figli. Mi piace parlare di co-genitorialità e come qualche studioso ha anche detto di genitorialità diffusa perché ciò che dovrebbe emergere è senz'altro prioritariamente il benessere psicofisico del minore e non diritti in qualche maniera equivalenti rispetto al figlio di entrambi i genitori o dei parenti che sono comunque collocati attorno. Proprio recentemente ho avuto a che fare con una famiglia dove ci sono due minori di cui uno è diventato anche maggiorenne da poco, di figli di due padri diversi che abitano con i nonni ai quali sono stati affidati perché appunto madre tossicodipendente ha fatto molti anni di comunità e mi sono trovata proprio l'altro giorno in udienza a dover gestire e mediare una situazione di conflitto non fra i genitori che erano assolutamente sereni l'uno rispetto all'altro ma tra i nonni e la figlia. A portare la loro testimonianza anche i rappresentanti delle forze dell'ordine da sempre in prima linea nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno e spesso sono proprio loro i primi a ricevere le richieste d'aiuto e di intervento in situazioni di violenza. Ovviamente in prima battuta si cerca di rendere doti i coniugi della gravità del loro gesto di quelle che sono le conseguenze che si possono ripercuotere su entrambi e soprattutto sul minore. Ovviamente nei casi più drammatici si cerca attraverso la collaborazione con altri enti, servizi sociali, istituti assistenziali di preoccuparci soprattutto della salute e dell'integrità del minore. Grazie